Benvenuti ragazzi da Quelli del Games Ciao Zambo Oggi che cosa? Non potevo non portare a Declis del BA Ok Declis del BA che bel mazzo Stiamo giocando tutti i BA questo periodo Tra l'altro devo dire se 10 persone che facciamo in local Ci sono 4 BA Ci sono 4 BA e fa 3 con le dita Grazie Zambo Non ti lamentare più Zambo Vabbè dai vediamo la lista Però è troppo forte il BA Sei zitto Zambo che hai fatto la cagata BA o P Vabbè soliti BA 3 SCARMA Un GRAFF Un CIR Perché un GRAFF e un CIR so forti? Palacchina dalla Conan 3 FARFA Poi i RUBIK KALCO Adesso tutti a MUNA Perché è un BARBAR KALCO Ne ha vinto Ha vinto No Ne sto giocando di nuovo MUNA No Ma perché Gold? Ma è che se ne dice Qui alla fine non si trovi più con 2 No ricorda che lui ha vinto una partita con il tuo Barbar No si se non hai vinto con il tuo Barbar Perdevo tutta la vita Vabbè i BA più forti sono questi qua Da fare con B Da mandare con B CIR è il BA più forte Questi sono i BA E' lasciato rucchi TITUR Che è il BA più forte 3 RINO Che è il BA più forte 3 RINO Che è il BA più forte 3 RINO 3 RINO 4 RINO 3 RINO Troppo forte E mi hanno fatto togliere il DAD Per mettere 3 BLS No DAD non puoi togliere Mai Ma rimettiamo DAD Vabbè in diretta rimettiamo DAD In diretta rimettiamo DAD In diretta rimettiamo DAD Qual era questo quello schicoso? Quello Gold Devi levare dai Fai con la gold E mettiamo DAD Cioè non puoi Abbiamo deciso di cambiare 2 DAD Non si può Un BLS o DAD 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 e DAD E questi sono i mostri La carta dei poveri Ray Jack La carta dei poveri Le ho sbustate tutti Questo è da povero Monster Aborn 3 Twin Twister Molto più forti di Cosmic Reggevero Cala Che dici Zambone Sì a me piace di più Forse contro Magician no Perfine dei più Cosmic E anche contro Tutoraco Vabbè e poi i Fulici Queste sono le 6 magie Allora i Fulici Sì prima stavo ragionando Che nel mazzo ci sono troppe limitate Cioè gioco 6 magie Di cui 3 limitate Non ha senso Anche i mostri Sono tutti limitati Sono di dire grazie Che c'è ancora questa eh Eh quella Boh è arrivato Che cazzo Limitata 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 E qua si è limitata Ah no Giusto Giusto Vabbè questo è il min 43 Non riesco a giocare 40 Veramente Non c'è spazio Non bricchi comunque 43 No no Diciamo i due ba li vedo in mano E poi qualche entrap tipo vele Qua lo devo pescare che è molto interessante Voglio che tu sei sbagliato E pesco sempre di trof milio No top Cara che so Raffa contro di te l'altro giorno ti ho visto Non è possibile che hai pescato quella device Raffa è stato più forte Vabbè di extra 3 damage Cosa ne pensi di quelli che ne giocano due Che sono dei trimoni ritardati Insultiamo mezzogonna Però c'era da dire che lui ne giocava due E uno di side per cherry Per cherry Giocava tre di extra E uno di side per cherry Cherry Ci può dire questo Bea Perché una? Vabbè di attaccare tambo Non posso pescare il gioco a cuore Brakesword Hatched Golem Super Quantar Night vs Shark Night vs Shark Night vs Shark per un periodo non l'ho giocato E me ne sono sempre pentito Questi sono Alexys Adesso il pezzo forte Non uscire il cazzo Il pezzo forte Black Rose Perché? E non lo so Non lo so Non lo ha fatto mettere cazzo Giocavo G Gabriel Mi ha detto togli Tanto lo devi bannare e ti trovi medio Banna Black Rose No Black Rose non è mai da bannare Obiettivamente Ti dà sicurezza sapere che c'è Black Rose in Alexys Io ogni tanto quando penso Ma l'ho persa Vedo l'extra Vedo che c'è Black Rose E penso questa si vince Questa si vince E poi L'altro sincro Virgilio Che lo faccio anche con costoni Cioè Fortissimo Fortissimo Tanti pilgri Che stiamo parlando Poi come Link Ormai sei fortissimo L'ha fatto tutte le partite Non so neanche che fa Riduce l'attacco Di un mostro dell'avversario Di un mostro puntato al lungo No è troppo forte E tendenzialmente ti leva la zona E ti sblocca la zona E' più forte di Proxy Perché almeno questo lo puoi mettere qua Mi pensi di Proxy Ha un senso Hai anche ragione Una cosa sensata alle tette Allora Poi Troppe carte Troppe carte da strassare No Mai Troppe carte da strassare Le sbusta tutte voglio Ce le ha tutte le carte Ricordo che ha sbiuso anche un destroyer da 120 euro E' l'ultima Il Borelod Che adesso si può non giocare troppo forte La cosa più forte è fare Borelod su Borelod A Carletto però Se lo fai a Carletto però è troppo forte No A Carletto dice pure che mamma cazzi Si Si tributa di costo Si tributa Manco si rimuove più Si fa poco a care voglio Si rimuove di costo Zambò sorridi Fammi un bel sorriso Seschi No Zambò Fammi un bel sorriso No Fammi il rapport Zambò fammi il rapport Ci ho fatto con il rapport Ragazzi Brock attiva la carta in damage Vabbè Ragazzi A un prossimo video Mi sta suonando pure il telefono